Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Linus, noto conduttore radiofonico, ha vissuto un momento di paura ma fortunatamente senza conseguenze gravi a seguito di un incidente in Vespa. Il 17 luglio 2024, mentre era in sella alla sua due ruote, Linus ha preso una buca inavvertitamente ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Tuttavia, le ferite riportate si rimargineranno presto e la sua Vespa è rimasta intatta. Attraverso i social, Linus ha condiviso una foto che lo ritrae con i segni dell'incidente e ha riflettuto sul concetto che ogni guaio porta con sé anche un lato positivo. Ha ringraziato coloro che si sono fermati ad aiutarlo e ha sottolineato che il mondo non è così brutto come spesso viene dipinto. Il collega Nicola Savino ha scherzosamente commentato l'accaduto, dimostrando solidarietà nei confronti di Linus. L'incidente, seppur spaventoso, ha dato modo al conduttore di apprezzare la bontà e la gentilezza delle persone che si sono fermate ad aiutarlo. Fortunatamente Linus ha riportato solo ferite lievi e la sua Vespa non ha subito danni rilevanti. Questo episodio ha portato il conduttore a riflettere sulla positività che può emergere anche da situazioni negative e a riconoscere il supporto ricevuto dalla comunità.